bello a tutti ragazzi metti su con la rega oggi lega questa tira è magic magico di porto un video ragazzi che vi è piaciuto tanto ragazzi il video dei quattro panuzzi ragazzi ora ragazzi lo rifarò ragazzi ora giro la telecamera ragazzi e faccio i panini ragazzi ecco ragazzi oggi la telecamera ragazzi e ragazzi per più ragazzi apriamo i nostri spani spano ragazzo ragazzo li apriamo ragazzo ecco ragazzi dei quattro panuzzi ecco ragazzi i quattro panuzzi ok ragazzi ora tagliamo i bei quattro panuzzi li tagliamo ok ragazzi lo faccio raga uno a a a a a a raga metto ragazzi la salsi dollaro di tacchino ragazzi ragazzi ora mettiamo per più ragazzi il caccio ok ragazzi ok poi metteremo la maionese un cucchiaio ragazzi e poi ragazzi andiamo ad spalmare ecco ragazzi ok ok ragazzi ragazzoli ora spalmare ecco qua sto qua ok 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 poi andiamo ragazzi ad apri ragazzi la rosso di tacchino ragazzi e poi andiamo ad apri ragazzi e poi andiamo ad apri ragazzi e poi andiamo ad apri ragazzi e la mettiamo ad apri ragazzi per metà per metà quest' confusale ancora così ecco ragazzi e poi ragazzi lo andremo anche due ok così che e poi ora lo chiudiamo così e poi eccola questo è il primo panino il primo pan panino che lo vediamo qua ragazzi ora ragazzi da 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 ora ragazzi veloci ragazzi il 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 video ragazzi e se non vi faccio per per l'eterno ragazzi ragazzi via da ora ciao Grazie a tutti 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 Grazie a tutti